Con mister Conte, mister, volevo chiederle il valore di questi tre punti per il momento in cui si incastrano e per come sono arrivati. Il valore di questi tre punti sicuramente sono tre punti che si aggiungono alla classifica e che ci fanno salire ancora di più. Se non sbaglio è la quarta partita che vinciamo consecutivamente in campionato. Sicuramente arriva in un momento in cui viene dopo un dolore calcistico, come dopo la partita contro lo Shakhtar. Sicuramente non era semplice rialzare un po' l'umore, il morale ai calciatori. Da questo punto di vista sono stati molto bravi perché queste sono situazioni dove meno si parla, più si fanno i fatti e meglio è. Gli ho detto questo, di concentrarci esclusivamente sul campo e di lasciare le parole agli altri. Mister, è un Inter che ha iniziato questa partita in una maniera, mi riferisco proprio all'assetto tattico, poi mi correga se sbaglio, ha finito con qualche cambiamento. Anche tanti cambi durante i 90 minuti, simbolo di quella compattezza che lei aveva chiesto ieri in conferenza stampa. La compattezza io l'ho chiesta all'esterno, non l'ho chiesta all'interno perché noi all'interno siamo molto compatti, uniti, perché sappiamo che tipo di situazione abbiamo e quello che dobbiamo affrontare e cos'è l'Inter. Quindi tra di noi c'è grande compattezza, io ho chiesto compattezza più all'esterno perché ho visto tanta negatività e questo mi è dispiaciuto tanto. Anche perché ribadisco, sono persone che stanno dando tutto per questa società, per questo club. A volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, però l'impegno è sempre massimale e viviamo per questo. Abbiamo iniziato in una maniera durante la partita, abbiamo cambiato per cercare di essere meno equilibrati, molto più squilibrati e più offensivi. Al tempo stesso siamo stati, secondo me, anche fortunati perché in un paio di circostanze loro sono ripartiti e non sono stati bravi a sfruttare delle superiorità numeriche in fase offensiva sull'1-0 in favore loro. Abbiamo fatto, se vogliamo parlare di un 4-1-2, abbiamo finito con un 4-4-2, ma in quelle circostanze, ripeto, è dare dalla panchina, quando c'è la possibilità, delle situazioni e delle armi in più. Una domanda da studio per il mister che vi ascolta. Sì, buonasera mister, io volevo darle questa statistica. L'Inter è la seconda squadra in Europa per punti guadagnati da situazioni di svantaggio, dietro soltanto al Manchester United. Direi che è sinonimo del grande orgoglio, del grande carattere che ha questa squadra. Guarda, io se vado a guardare sinceramente le statistiche, ne trovo veramente tante, come anche il fatto che questa è una squadra che è quella che ha fatto più gol nella nostra Serie A. Il fatto di aver rimontato, di essere insieme allo United, della squadra che magari ha fatto più punti in rimonta, sicuramente è un aspetto positivo perché dimostra che questa è una squadra che ha carattere, che non si arrende, che ha calciatori che comunque non si arrendono di fronte all'episodio negativo, come quello che è successo oggi contro il Cali, dove stavi dominando una partita, stavi creando tantissime occasioni per fare gol, e ti sei ritrovato poi sotto uno di un gol. Quindi merito ai calciatori, merito ai ragazzi che hanno questo spirito. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey amico, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey amico, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.